Chiusura, una battuta veloce, allora errori di Bruxelles sulla sicurezza, terrete duro? Terremo duro sicuramente perché abbiamo avuto il mandato, dalla nostra gente, di rendere questo paese più sicuro, vivibile e un paese civile soprattutto. Io credo che questo sia il risultato, il risultato ci abbia premiato proprio perché noi abbiamo sempre propugnato questa nostra volontà e che anche l'Unione abbia consentito, anzi abbia dichiarato che la sicurezza è una priorità per tutti i paesi, specialmente per l'Italia, ci dà ragione anche su tutta la linea. Onorevole Stucchi, la Spagna ci ha attaccato per il discorso dei clandestini, terrete duro? Direi di sì, anche perché sarebbe sufficiente andare a vedere come trattano loro i clandestini che arrivano dal Nord Africa, dal Maghreb, che cercano di entrare nel sud della Spagna, li fanno dormire per terra all'interno di tende di fortuna e questo dicono loro per disincentivare il fatto che ci provino una volta in più a entrare clandestinamente, quindi prima di muovere accusi di razzismo ai nostri confronti forse dovrebbero guardare anche come trattano loro queste persone, dopo di che io non giudico se li trattano bene, se li trattano male, se fanno bene, se fanno male, sicuramente però sono trattati in modo diverso rispetto ai clandestini che vengono presi e messi nei CPT nel nostro Paese. La Spagna non deve dare patenti di democrazia a nessuno come noi non dobbiamo darle ad altri, ognuno ha i suoi problemi, sappiamo che il controllo dei frontieri del nostro Paese è anche un controllo dei frontieri europei e lo cerchiamo di farlo in modo serio per difendere prioritariamente noi stessi e poi tutti gli altri.